A Masoronco va in scena la terza giornata del campionato nazionale allievi under 16 di Lega Pro con il titolo in questa stagione allenato da Paolo Tornatore che si misura col Padova. Nei due precedenti match i biancorossi hanno vinto contro il Pordenone e perso di misura contro la Reggiana. Sul campo sintetico del centro sportivo di Masoronco avvio di gara di Chiara marca biancorossa con la squadra di Tornatore che prende d'assalto l'area di rigore ospite sfiorando il vantaggio a sesto su veloce azione in linea a conclusione radente di Zanon respinta a fatica dal portiere Patavino. Tre minuti più tardi sugli sviluppi di un calcio d'angolo la conclusione potente di Jamai dal limite dell'area sorvola di poco la traversa. Ancora sui tiro il pericoloso l'ottavo su punizione cross di Zanon respinta dalla difesa Patavina poi Jamai in qualche modo riesce a servire Sgarbi il quale si libera caparbiamente al tiro ma al suo destro sul primo palo viene respinto dal portiere ospite poi la difesa del Padova libera definitivamente la minaccia con un certo affanno. C'è solo il sui tiro e al decimo un lancio in verticale libera la corsa di Sgarbi che entra in area di rigore dalla destra e poi cerca di servire al centro Chiarello che è però un attimo in ritardo e non riesce più a concludere. Il Padova allenta la pressione alla mezz'ora con bello spunto di Miccoli che però poi calcia malamente sul fondo. Ma è solo un fuoco di paglia quello Patavino perché al 32esimo il sui tiro si porta meritatamente a condurre con splendido assist non-look di Sgarbi per amico che salta il portiere in bello stile e deposita in rete di sinistro il pallone dell'1-0 bianco-rosso. Immediata però la risposta del Padova che tre minuti più tardi perviene al pareggio su palla persa da Colucci che Rosso trasforma in uno straordinario lob dai 40 e passa metri sul quale Weiss si fa sorprendere. Prima dell'intervallo combinano Jamai e Sgarbi con quest'ultimo che salta netto il diretto avversario per poi concludere di sinistro di un soffiolato squadra a riposo sul parziale di 1-1. La prima parte della ripresa si caratterizza per un sostanziale equilibrio spezzato dal gol del vantaggio del Padova che al 26esimo si porta sul 2-1 dopo bella azione corale e cross dalla destra col pallone che perviene a rosso il quale di sinistro gonfia la rete bianco-rosso siglando la sua doppietta personale. La reazione del sui tiro è però rabbiosa e al 29esimo su cross di Zanon il ben appostato Chiarello viene anticipato in extremis. Ma dieci minuti più tardi la squadra di Tornatore perviene al pareggio su imbucata di Jamai che libra in campo aperto Sgarbi il quale dal limite dell'area trafigge il portiere ospite siglando la rete del 2-2. La partita sembra ormai potersi chiudere qui ma allo scadere una clamorosa incomprensione fra Colucci e Weiss permette a Zagolin di firmare a porta vuota il 3-2 del Padova condannando il sui tiro ad una immeritata sconfitta.